Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea. La sfida di una donna nel confrontarsi con le aspettative sociali e le convenzioni, mentre cerca di capire cosa significhi essere autentica a se stessa senza piegarsi agli standard imposti dalla società. Il testo invita il lettore a riflettere sulle convenzioni sociali, sull'accettazione di sé e degli altri, e sulla ricerca della felicità senza dover aderire forzatamente a stereotipi predefiniti. La trama del libro Tania. Uno più uno non fa due della scrittrice Chiara al librio, casa editrice Bookabook, è la seguente. Tania ha 25 anni, è una sviluppatrice ed è nata e cresciuta a Siracusa, circondata da affetti e certezze, tra cui Clara, la sua migliore amica, molto diversa da lei ma dà sempre un punto fisso nella sua vita. Il mondo di Tania, però, cambia radicalmente quando si scopre innamorata in modi diversi, ma nello stesso momento, di due ragazzi, Luca e Marco. Tania non vuole rinunciare a nessuno dei due, ma sa che deve venire a patti con la società, che pretende che abbracci uno stile di vita normale. Tania, però, non vuole farlo e non capisce neanche perché dovrebbe. E, poi, che cosa significa essere normale? Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.